Alla scoperta dei più bel luoghi della città, guidati da accompagnatori esperti che faranno di una visita in centro un'esperienza indimenticabile. Con il progetto Relazio Napoli, l'associazione Pensare Più, da un'idea di Roberta De Martino, propone delle visite partecipate e animate da intrattenimenti artistici per diffondere tra cittadini e turisti il senso di appartenenza alla città. E per farlo si avvale di un team affiatato di sociologi e psicologi e del contributo delle associazioni culturali del territorio, perché i partecipanti non attraversino quei luoghi solo in modo distratto, ma si avvii un momento di riflessione costruttivo. Presentato in sala giunta con l'assessore alla comunicazione Monia Aliberti, il progetto parte in via sperimentale nella seconda municipalità e si avvale del consorzio Borgodante e Decumani, che ha contribuito alla realizzazione di un tacquino consegnato durante il tour per raccogliere impressioni e stimolare a conclusione dei viaggi interattivi un breve dibattito. Il primo tour è programmato per il 23 giugno alle 21 nell'ambito del giugno dei giovani e sarà dedicato al tema della precarietà. Lo stesso verrà poi replicato il 30 giugno alle 18 per i giovani ospiti di alcune casa famiglia del territorio.